Buongiorno a tutti bambini, bambine, ragazzi, ragazze, insegnanti, educatrici, educatori, direttrici scolastiche, bidelli, bidelle, assistenti, tecnici di teatro, assessori, siamo qui pronti a ricominciare la stagione di teatro ragazzi del comune di Padova. È un anno speciale, più difficile degli altri e lo sappiamo, ed è per questo che ci mettiamo ancora più forza ed energia. Abbiamo programmato spettacoli con il titolo Consegni a domicilio perché vorremmo sempre di più adeguarci alle vostre esigenze e non portarvi soltanto a casa alla pizza, ma all'arte che, come diceva il grande poeta Pessoa, è necessaria per nutrire la nostra immaginazione e il nostro animo. Vi aspettiamo più numerosi che mai e più numerosi che mai verremo a trovarvi direttamente a scuola, nei quartieri, al museo, nei teatri più vicini a voi. Allora vi mandiamo un grande saluto da parte di tutto lo staff del Teatro Ragazzi, del TAM Teatro Musica, l'Assessorata alla Cultura, l'Assessorata alle Politiche Educative e Scolastiche. Ecco, noi ci siamo e come gli altri anni siamo pronti ad entrare in scena con voi. Grazie.